Buonasera, buonasera a tutti. Dopo l'intenso fronte che ha interessato la nostra regione nella giornata di venerdì, per sabato una tregua, il fronte si sposta verso est e il cielo si fa con qualche schiarita sulla nostra regione, in particolare nel corso della mattinata e nel pomeriggio. Soffierà un po' di vento di bora e soprattutto ci sarà un peggioramento della sera. Un altro fronte che interessa la regione porterà le prime piogge, in genere moderate, verso sera per poi intensificarsi nel corso della notte, temperature massime su pianura e costa tra i 15 e i 17 gradi. Domenica mattina il fronte interesserà ancora la regione con piogge intense, localmente molto intense sulla fascia prealpina, ma pioverà un po' su tutte le località, anche dei rovesci temporaleschi, in particolare su pianura e costa. Sulla costa soffierà vento di scirocco al mattino e poi di libeccio nel primo pomeriggio per poi attenuarsi del tutto nel corso della giornata. In quota soffierà ancora vento da sud e come vediamo le temperature massime oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi. È tutto dall'osservatore meteorologico dell'ARPA, Ligo Stefanotto.